In giornate belle come queste cosa si può fare? Perché il sole bacia i belli, fa diventare matti anche i cani qua che saltano in giro per il giardino, anche i benelli che escono, bisogna tenerli perché scappano i benelli con questo tempo qua, bisogna stare molto attenti, quindi mio marito è qua che fa la guardia. Devo prepararmi ora, l'additivo speciale per buy biliana, l'additivo speciale per pulire le moto. Sì, e tenerle a bada qua, dentro le mura e dentro casa. Ecco, e lì c'è il cane che salta.